trading time lezione numero 3 benvenuti a tutti come sempre io sono sergio merdetti trader indipendente analista tecnico social professional siat oggi insieme continuiamo in questo cammino e vediamo un'altra lezione teorica dedicata a un altro reparto molto interessante del trading stiamo infatti parlando dello stile dello swing trading e in particolare in questa lezione andremo a vedere una strategia di swing trading da utilizzare nel 2023 vedremo un po tutte quelle che sono le varie caratteristiche dalla selezione dei titoli all'analisi fino a quella che è la gestione l'ingresso le uscite eccetera prima di cominciare a parlare della vera e propria strategia come sempre se è la prima volta che guardi questo video e quindi sei perso magari gli altri ti faccio un attimino la ricapitolazione di quelli che sono gli stili di trading in merito al al tempo che occupano per essere messi in opera il day trading è il il re il principe appunto come attività giornaliera una vera e propria attività imprenditoriale un vero e proprio lavoro che richiede presenza costante davanti al computer magari in un certo periodo della giornata può essere qualche ora la mattina qualche ora al pomeriggio se fai forex addirittura ci sono anche c'è anche la possibilità di sostanzialmente lavorare addirittura anche di di notte sessioni notturne anche se comunque ci sono sempre degli orari che sono maggiormente volatili che quindi sono migliori diciamo per per operare ma il mondo del day trading è tutto ciò che si svolge all'interno della giornata quindi operazioni che si aprono e si chiudono all'interno della stessa giornata poi abbiamo il trading multi day che richiede meno tempo può richiedere o alcune ore nel fine settimana per fare le analisi oppure nel caso ad esempio dello swing trading che si colloca un po a metà in maniera tattica tra il day trading e il trading multi day può essere fatto magari tutte le sere o tutte le mattine un pochettino di di analisi per poi immettere gli ordini e avviare l'operatività quindi di base comunque non richiede magari per forza una staticità davanti al monitor tutti tutti i giorni o tutte le settimane l'investimento invece è quello stile di quell approccio sul mercato finanziario che richiede in assoluto meno tempo di tutti naturalmente anche l'impatto psicologico va di palipasso quindi nel day trading va da sé che l'attività giornaliera richiederà magari un maggiore impegno mentale avrà un maggiore impatto psicologico via via a scendere diciamo così di approccio nel trading multi day avrà meno impatto psicologico e l'investimento ancora di meno perché naturalmente ci sono meno input del mercato quindi sei meno tentato di modificare quelli che sono i tuoi piani di trading magari di guastare o rovinare quelle che sono le operazioni che hai messo a mercato questa è un po un'introduzione il lo swing trading esattamente dove si colloca come vi ho come ti ho accennato all'inizio si colloca in una via di mezzo fra il day trading e trading multi day perché parlo dei trading perché ha un approccio molto tattico occorre avere molta molta attenzione a quello che è il movimento dei prezzi e molta precisione soprattutto nelle negli ingressi perché comunque operiamo in una condizione di movimento abbastanza abbastanza piccolo abbastanza contenuto e quindi molto importante che noi ricaviamo l'esatto timing quindi se con l'investimento col trading multi day possiamo più o meno aggiustarci con lo swing trading dobbiamo essere molto precisi con il timing quindi è un'attività che a livello di osservazione di grafici è molto più vicina al day trading però allo stesso modo le operazioni si possono gestire con meno meno tempo e con meno presenza per forza appunto davanti al monitor per queste ragioni le principali caratteristiche dello swing trading sono la durata delle operazioni la gestione del capitale del rischio e il tipo di movimento no quindi la durata è di qualche giorno massimo se una settimana quindi un'operazione può essere aperta il giorno precedente addirittura in intra day e poi può essere chiusa la giornata successiva o due giorni dopo addirittura magari a volte si protrae per qualche giorno o una settimana se l'operazione prende un movimento magari più ampio la gestione del capitale del rischio attenzione questo è il punto chiave viene fatta come nel multi day dato che io devo lasciare le operazioni più di una giornata a mercato è opportuno che il mio rischio e il mio capitale venga gestito esattamente come un'operazione di multi day di più lungo termine anche se l'ingresso l'osservazione dei prezzi e addirittura l'apertura della posizione può essere fatta intra day è gestita anche come un'operazione con un approccio più più tattico no il tipo di movimento proprio perché va ad agire con un'operazione più tattica con un ingresso più mirato il tipo di movimento è più contenuto perché lavoriamo su piccole correzioni su trend definiti quindi andiamo a prendere piccole porzioni di trend o di inversioni di trend magari o anche di continuazioni del trend all'interno di direzionalità o comunque di inversioni abbastanza definite abbastanza chiare no? e prendiamo naturalmente dei piccoli rimbalzi perché sono sufficienti per quello che è l'impostazione appunto dell'operazione per darci un rischio rendimento adeguato a questo punto questa voleva essere appunto un'introduzione per farti capire che tipo di operatività è in generale lo swing trading andiamo adesso a vederla nel dettaglio parlando proprio della strategia vera e propria come sempre partiamo da uno scanner quella che ti ho presentato qui che ti ho portato qui è una strategia dedicata alle small cap in particolare uno scanner che ho ricavato con pochissimi filtri e lo puoi rifare anche tu ugualmente su finwitz.com dove andiamo a ricavarci a scremare il mercato americano con questi quattro filtri più o meno siamo già in grado di scremare partendo da un 8.000, 9.000 o 10.000 titoli arrivare a una lista di circa 20-30 titoli che possono essere analizzati vedrai con molta semplicità e abbastanza rapidamente qui puoi riprodurre questo tipo di scanner con tutte le piattaforme che vuoi tra l'altro di alcuni di questi scanner ne ho parlato su alcuni video su youtube che sono disponibili proprio per la visualizzazione poi a questo punto una volta che abbiamo lanciato il nostro scanner avremo una lista di titoli e andremo a guardarli, controllarli, analizzarli con un grafico daily la strategia di cui ti parlo è una strategia di base trend following e può essere utilizzata sia long che short ciò di cui abbiamo bisogno è un trend chiaro con massimi e minimi crescenti se siamo in una direzionalità long oppure decrescenti se siamo naturalmente in una direzionalità short ma soprattutto le ultime 4-5 sedute dovrebbero rimanere o essere ancora in direzione del trend di provenienza quindi potrebbe esserci una situazione di compressione di volatilità avendo alle spalle un movimento rialzista o una continuazione proprio ancora del trend massimi crescenti in caso di una direzione di provenienza appunto rialzista quindi deve esserci una situazione di continuazione non per forza con un pattern di prezzo anche solamente continuando i nuovi massimi o con nuovi minimi quindi avendo visto quello che vogliamo vedere sul grafico daily parliamo del time frame e gli indicatori utilizzati rimaneremo per questa strategia per questa operatività sempre focalizzati su un unico time frame che è il time frame giornaliero cercheremo quindi di analizzare e fare un'operatività totalmente daily gli indicatori utilizzati sono i punti pivot metodo voody basati sul settimanale e poi la TR a 9 periodi se non sai che cos'è la TR ho fatto un video dedicato proprio dove ho spiegato nel dettaglio come è costruito come si utilizza anche proprio con degli esempi operativi utilizzeremo i punti pivot del grafico per trovare livelli di ingresso e target e il valore che ci restituisce la TR sarà utilizzato per fissare la distanza del nostro stop così avremo sempre una sorta di indicazione comunque meccanica per scegliere il nostro migliore stop loss questo è un esempio di grafico daily di come si presenta ho preso questo ma avrei potuto prendertene parecchi altri poi le vedremo in diretta sul mercato e naturalmente anche in questa lezione ti farò vedere diversi esempi qui vedi un grafico appunto con un movimento rialzista importante con dei massi crescenti che si susseguono e anche le ultime 4 o 5 sedute c'è questo piccolo movimento diciamo così a tazza no? che vedi che fa questa specie di ritracciamento avendo alle spalle comunque un movimento rialzista poi c'è questa piccola compressione con i corpi che si comprimono che rimangono a contatto appunto della della zona tonda del 4 no? quindi comunque questo trend viene praticamente mantenuto al momento quali sono i criteri operativi no? per entrare nella posizione anche per gestirla scegliamo il punto pivot principale quindi lo facciamo sarà il nostro punto principale sul grafico il target sarà un punto pivot il primo disponibile superiore o inferiore se siamo long o short e poi avremo il nostro stop loss stop loss che verrà posizionato o su un punto pivot superiore o inferiore quindi contrario naturalmente quindi poco di sotto poco al di sopra sarà un valore questo è a scelta ho messo appunto tre opportunità opportunità 1 il punto pivot l'opportunità 2 utilizzare il valore dell'ATR o addirittura andare a cercare massi o minimi quindi anche i precedenti del periodo diciamo preso in esame quindi a scelta uno di questi tre valori molto probabilmente se il setup è molto molto buono c'è un'area tecnica interessante vedrete combaciare il punto pivot insieme all'ATR e insieme ai massimi e minimi no? quindi a volte c'è due di queste scelte generalmente tendono tenderanno sempre a combaciare quindi avrete comunque sempre la possibilità di scegliere quella più probabile no qui come vedete sempre guardando il grafico di prima abbiamo il nostro punto più o principale che è tracciato in questa condizione qui no lo vedete tra tratteggiato di di grigio quando poi fate comparire l'indicatore andate magari a personalizzarlo di modo da avere i punti pivot superiori di un certo colore i punti più inferiori di un altro e come valori di stop loss se mi devo basare sul valore della tr in questo caso 0,74 che lo andiamo a arrotondare a 0,80 o i massimi o i minimi precedenti è molto interessante il minimo di questa di questa situazione qui che è quello l'ultimo punto swing no l'ultimo minimo compreso tra un minimo più alto a sinistra e un minimo più alto a destra quindi questo minimo è quello che è l'ultimo che destra più più interesse prima di questo movimento di partenza andremo a fare il nostro ingresso proprio alla rottura o alla rottura o comunque comprando semplicemente con un ordine limite piazzandoci qui sul punto più o principale nostro stop loss primo livello potrebbe essere questo oppure andremo a metterlo sotto il punto pivò sottostante il target sarà al punto più superiore in questo caso un esempio long trend di provenienza long movimento long compressione e andiamo a perseguire quella che è appunto la l'allungo di questo sul sul punto pivò punto pivò che naturalmente andiamo da un punto ad un altro ecco perché utilizziamo i livelli come stop loss o take profit della posizione sempre parlando di ancora altri criteri di gestione di operatività mi raccomando di considerare valido il punto pivò di ingresso solamente se non è ancora stato violato testato se vediamo che si è avvicinato di poco non l'ha toccato e poi il prezzo è andato nella direzione o addirittura il take profit è già stato raggiunto non dovremmo ritentare diciamo così la posizione naturalmente poi vedremo un po di esempi anche dal vivo nella lezione in pratica sul sul mercato sul punto pivò superiore o inferiore quindi il take profit è possibile chiudere magari solo parzialmente la posizione e prendere magari profitto ancora sui punti pivò superiori e inferiori sarà facile trovarsi in situazione dove gli allunghi magari sono estremamente importanti sul su questo tipo di strategia ricordiamoci sempre di arrotondare per difetto i take profit e per eccesso il valore dello stop loss sempre partendo dal punto di vista del mezzo dollaro o del numero tondo la size dell'operazione dovrebbe essere massimo del 10 per cento e il rischio massimo del 2 per cento a trade quindi se abbiamo un capitale di 10 mila dovremmo investire al massimo 1000 euro e per ogni trade rischiare al massimo 200 euro dollari in questo caso quindi queste sono un po i parametri per cui avrò tutta una gestione come se fosse un quasi un trade intraday ma dall'altra parte l'impostazione del rischio la gestione del capitale deve essere fatta totalmente come un'operazione molti dei di più lungo termine di più ampio respiro questo ad esempio è una possibilità abbiamo un trend rialzista di provenienza una flag di compressione poi c'è un bellissimo gap qui che esprime moltissima forza nei prezzi e le ultime 4 5 sedute praticamente sono completamente a rialzo in questa fase come vedi il punto pivò principale non è mai stato testato quindi è completamente libero il prezzo è completamente in mezzo e quindi quello che io aspetto è una presa di liquidità un ritest sul punto pivò principale ricordiamo che un livello settimanale quindi in area 232 vado a prendermi poi un take profit in area 281 sul punto pivò superiore che dovrebbe essere già quello di chiusura della posizione il mio stop loss posso andarlo a mettere a questo punto in mezzo all'area del gap sotto il punto pivò oppure rifarmi con l'arrotondamento per per difetto del valore appunto dell'atr questo è un esempio long con un ordine che ancora deve essere diciamo così eseguito vedi che qua il livello non è stato violato quindi ancora molto probabile che se il prezzo arrivo fino qua giù possa fare un rimbalzo e quindi naturalmente lo vado a considerare qui invece abbiamo un esempio di operatività che è andata a target in questo caso mankind corporation questo è un trend rialzista con pochissimi ritracciamenti le ultime sedute sono sostanzialmente anche qui a rialzo vanno in prosecuzione del trend non ci sono nuovi massimi ma i minimi come vedi si schiacciano in maniera molto chiara e lineare verso l'alto no possiamo veramente quasi individuare con con molta quasi con molta pulizia una sorta di canale non c'è molta oscillazione a zig zag ma la direzionalità è chiara e comunque sostenibile nel tempo cosa succede arriviamo poi qui andiamo a comprare sul livello del 508 vedi come alla fine senza senza dubbio viene identificato quello che il nostro punto effettivamente di ingresso quindi inseriamo l'ordine manteniamo un primo stop può essere o eventualmente magari nella zona qui a metano abbiamo o questo minimo qui che qui possiamo vedere che si avvicina appunto al livello del 5 quindi l'ideale sarebbe proprio mettersi magari proprio sotto appena sotto l'area del 5 quindi avere un livello di questo di questo tipo qua per esempio di stop loss no ci farebbe stare appunto in una condizione di minimi della della candela e al tempo stesso metterci sotto il numero tondo altrimenti l'altra possibilità quella più drastica più tranquilla diciamo è quella di andarsi a mettere sotto il punto pivot più importante quindi più o meno in area 4 e 85 il nostro target sarà appunto il punto pivot superiore in questo caso qui è stato raggiunto poi il terzo giorno primo giorno fill secondo giorno ritest nuovamente sull'area da noi è designata ma non siamo mai scesi praticamente al di sotto del livello del ciclo quindi anche lo stop più piccolino magari basato sulla tr qui che qui segna 0 25 potrebbe essere stato semplicemente a 0 30 30 centesimi dal livello 508 quindi ti vai a mettere poco sotto l'area del ciclo dovrebbe essere anche un'area di questo tipo qua e appunto poi il terzo giorno con la spinta del mercato abbiamo avuto il nostro take profit anche su questa su quest'operazione e qui c'è un altro esempio long anche questo nato target molto interessante molto molto bello come figurazione trend anche con un po di zig zag trend trend di alcista di provenienza un fortissimo a lungo le ultime 45 sedute come vedi sono addirittura con i nuovi massimi quindi molto interessanti poi un ritest nell'area appunto del pivo il pivo principale nostro stop loss magari dopo mi raccomando quando vedi un grafico che si muove in questo modo poi un certo momento mette una candela un po spropositata no un po fuori dal coro lunga 3 4 volte rispetto a quello che è un po la norma del del resto del grafico ecco magari attenzione perché se il prezzo dovesse ritracciare è capace che magari si rimangia anche più o meno il 50 per cento del corpo di una candela simile perché in un allungo di questo tipo pochi investitori saranno riusciti a entrare effettivamente durante il percorso di questa di questa salita di prezzi durante la giornata quindi mi raccomando attenzione aspettati comunque dei rilasciamenti almeno di un terzo del corpo della della candela così come è stato vedi che qua abbiamo avuto un'apertura poco sopra al 4 e mezzo sopra il punto pivo presa di liquidità sul punto pivo si è rimangiato un pezzo di corpo della candela andata a prendere un po di liquidità che naturalmente era lasciata sopra poco sopra questi sopra questi massimi per poi ritornare aggressivamente e guarda un po dove ha chiuso proprio sotto so poco poco sopra il punto pivo principale il giorno dopo poi ha fatto l'allungo che poi se poi andati vedere anche comandato il titolo ha proseguito poi a rialzo è andato addirittura anche oltre questo questo target quindi qua è proprio una strategia molto come vedi toccata e fuga no le operazioni magari non durano entro qui il giorno dopo sono a take profit sono già uscito già finito quindi un'operazione di due tre giorni col va è come se fosse un'operazione in tra dei col vantaggio che non sta incollata guardare grafico quindi riesce ad avere comunque un distaccamento ma migliore per poter fare un buon trading questo è un esempio short in attesa questa operazione l'ho tenuta per due giornate in realtà poi non ho mai avuto il film perché il prezzo è salito fino a 280 quindi siamo arrivati veramente a pochissimo dal dal fil ma non siamo mai arrivati appunto a 284 che era appunto il livello su cui aspettavo per aprire la posizione short come vedi dopo queste grandi candeloni non mi fido ad avere uno stop loss più piccolo magari in mezzo qui nella terra di nessuno ma vado a metterlo direttamente sopra il punto privo precedente poi in questo caso forniva davvero un livello di di take profit molto molto interessante qui non si vede nel grafico ma ovviamente vado poi a prendere un tp più o meno una volta e mezza due quella che è lo stop la cosa interessante che qui nella distanza proprio del take profit dello stop loss ce la dice direttamente il il punto privo stesso quindi non ci dobbiamo inventare assolutamente niente abbiamo creato proprio per tutta la tua operatività e per tutto quello che riguarda il mondo multi dei perché qui stiamo parlando comunque di mondo multi dei un percorso che racchiude tutte le strategie quindi non solo quella che hai visto in questa lezione che è stata creata diciamo così ad hoc però portata qui ad hoc ma in realtà ci sono altre tante strategie in in tutto il questo questo percorso perché infatti non è un unico un unico corso ma è un insieme di corsi per esattezza sono 10 che noi abbiamo scelto e messi in un in un preciso ordine così da farti percorrere appunto una strada da zero facendo di passare per tutti quelli che sono gli stili di trading più importanti tra questi c'è il mio personale corso di swing trading che questo qua cerchiato appunto di blu che ho realizzato in prima persona dove ti ho spiegato altre cinque tecniche di swing trading dandoti tutti gli strumenti necessari piattaforme scanner gestione del capitale gestione del rischio strumenti per essere autonomi completamente in quello che è l'acquisto la selezione di di titoli no sono come vedi appunto 10 corsi selezionati di analisi tecnica e soprattutto di operatività multi dei come il corso per esempio investire in azioni che poi te ne parlerà alessandro nella quarta lezione e le strade le mie strategie appunto di swing trading in più hai la parte sulla psicologia sugli strumenti finanziari tutto quello che concerne le basi di analisi tecnica il corso excel for finance che ti insegna di dare gli strumenti concreti per monitorare il tuo portafoglio utilizzando le potenzialità di excel quindi potenzialità di excel espletate appositamente proprio per per la per la finanza quindi l'utilizzo di excel proprio per crearsi un modello per un portafoglio tutto questo tutta questa offerta qui formativa in un unico percorso che se tu dovessi comprare tutti i singoli corsi uno per uno andresti a spendere 2232 euro noi avendo creato un percorso completo la spesa è quella di 1497 euro quindi già con questa soluzione hai un risparmio in più ti abbiamo aggiunto un extra sconto del 30 per cento scrivendo nel carrello quando vai all'acquisto meta 30 e ti fa scendere il prezzo a 1.048 quindi dai 2.232 iniziali hai un risparmio di 1.184 euro che è tantissima roba se pensi a quanto tempo ci vuole a trovare tutte quelle informazioni che tu troverai in quei 10 corsi mettere organizzate soprattutto con delle tecniche pratiche perché io ti parlo anche solo proprio del mio corso dove so che cosa ti insegno ti do proprio una metodologia degli step precisi da seguire nei tutorial pratici per andare a fondo e arrivare operativo quindi c'è tutta la prima parte del corso teorica con tutta la parte spiegata in maniera diciamo così meccanica e poi si va con i grafici in pratica ci facciamo un giro sugli scanner facciamo un po di analisi insieme e vediamo quelli che sono effettivamente i titoli e la scelta no quindi a livello pratico c'è tutta la routine quindi tutto questo con uno sconto del 30 per cento ulteriormente e ti assicuro che già questo tipo di offerta è di altissimo valore perché ti dico già come se non avessi finito perché in effetti non abbiamo finito perché proprio perché abbiamo deciso di fare questa iniziativa e del nostro regalo di natale dato che non abbiamo fatto black friday e altre cose di questo tipo abbiamo deciso di fare delle offerte formative decisamente stimolanti proprio per l'inizio del 2023 ti regaliamo un bonus speciale il valore di 979 euro che cos'è questo bonus speciale è il percorso di crescita professionale che noi ti regaliamo quindi è un altro percorso quindi vuol dire un altro insieme di corsi ma non corsi qualunque ma corsi dedicati ognuno ha una skill diversa il primo è di apprendimento efficace che anche questo te lo trovi regalato completamente gratis anziché pagarlo 97 euro il corso abitudini di successo perché comunque tu quando vai a fare trading quando devi fare trading tutti i giorni devi instillare dentro di te un'abitudine e avere un metodo per introdurre una nuova abitudine una nuova cosa da fare costantemente tutti i giorni in un mondo dove siamo operati di task di lavoro di mille cose da fare magari sulla famiglia piuttosto che sul lavoro insieme o cose altre di altro tipo magari sempre personali l'organizzazione del tempo e la gestione di come inserire una nuova abitudine per farla diventare una cosa appunto di successo è indispensabile le basi della leadership anche questo comunque per avere un'altra skill che nel tuo magari campo lavorativo ti potrebbe tornare assolutamente utile e stra fondamentale l'organizzazione personale sempre collegato al discorso dell'apprendimento dell'abitudine di successo e dello studio proprio del trading le presentazioni efficace altra skill come le basi della leadership che ti apre il mondo lavorativo dandoti appunto delle skills che difficilmente le trovi insegnate appunto in una in una classica scuola anzi ci sono vediamo spesso e volentieri delle comunicazioni da parte di tanti docenti completamente inefficaci bene questo corso va proprio ad agire su queste difficoltà e le smuove con una tecnica e con un metodo preciso tenete conto che questi corsi non sono fatti da un solo docente ma sono più docenti ognuno con una grande carriera alle spalle con una grande esperienza alle spalle con curriculum di tutto rispetto che lavorano costantemente a contatto di grandi imprenditori e grandi aziende con coaching one to one piuttosto che consulenze di tipo aziendale e hanno risollevato tantissime situazioni e noi le abbiamo qui in anteprima tutti per voi dentro la piattaforma meta skill con dei corsi che già per per iniziare bene l'anno appunto vi facciamo questo regalo totalmente gratuito naturalmente se vai a effettuare questo tipo di offerta formativa che abbiamo riservato solo per te che fai parte appunto di questo percorso trading time il corso problem solving anche qui regalato anziché 197 euro e il corso task management anche qui quindi la gestione delle cose da fare la gestione dei task lavorativi ma anche quelli tuoi personali completamente gratuito invece di 197 euro quindi la somma di tutti questi corsi che fanno parte del percorso crescita professionale e di 979 euro attenzione questo scade il lotto gennaio quindi naturalmente per ottenere lo sconto del 30 per cento e pagare 1048 euro e portarti a casa i 10 gli 11 corsi di trading multiday che rappresentano appunto il prezzo del percorso strategie di trading multiday e il percorso di crescita professionale ecco che lì vai ad agire con lo sconto del 30 per cento ti porti a casa con 1000 euro praticamente 22 corsi pratici con dei metodi fatti da più docenti con esperienza pluriannale ognuno nel proprio campo e ti porti a casa un sacco di skill che neanche in due università ti riesci a portare perché sono informazioni pratiche del mondo del lavoro del mondo reale dove le persone fanno questo sul campo e non appunto la regoletta del libro che magari puoi scrivere dentro un trattato o qualcosa e poi rimane lì a sé stante qui andiamo a scaricare a terra attraverso quelle che sono le metodologie di esperienza tutto questo però è valido fino all'8 di gennaio quindi io mi auguro veramente che tu abbia compreso il valore di questo tipo di offerta e ne approfitte e ne approfitti noi comunque ci vediamo live ovviamente per le l'operatività e quindi lì ci sarà anche occasione di fare altre domande naturalmente il tutto è coperto dalla garanzia di 30 giorni quindi se sei preoccupato della spesa della cifra non ti preoccupare falla perché comunque ai 30 giorni subito per andare a vedere se quelli che hai comprato sono corsi che fanno al caso tuo se così non è mi raccomando ai 30 giorni non aspettare il trentesimo eventualmente anticipa se proprio devi fare rimborso per richiederci il rimborso e noi te lo emettiamo con un solo click senza storie senza nessun problema questo non è una bufa abbiamo sempre fatto è il fatto proprio di essere arrivati fino a qui e di aver ottenuto dei risultati sempre eccellenti in tutte quelle che sono state le nostre recensioni ci porta a dire con con un po di fierezza che naturalmente ci abbiamo sempre messo la faccia non abbiamo mai rinunciato alla soddisfazione del cliente questo è quello che abbiamo sempre sempre fatto e continueremo a fare nel mondo delle trading e della forma della formazione quindi mi raccomando io ti aspetto nelle prossime lezioni e clicca sull'offerta formativa e non perderla perché scade l'otto di gennaio un saluto a presto